Questa edizione di Zomark si sta rivelando super positiva, abbiamo avuto tantissimi contatti esteri ma soprattutto abbiamo rafforzato l'immagine del nostro brand con tutti i nostri clienti solidi e storici che ci seguono ormai da tanti anni in Italia. In questa edizione di Zomark presentiamo la nostra nuova linea Cappotti Balloon in cui ci sono tantissimi nuovi cappottini. Sempre a Zomark presentiamo la nostra linea di Profumi Essenza in edizione limitata sempre dedicata alla collezione Balloon. Per il gatto invece abbiamo pensato a tantissimi prodotti meravigliosi come il mercato del gatto quindi pesci, frutta, verdura, ripieni di matatabi, questa erba specialissima che attrae tantissimo l'attenzione del gatto lo stimola e lo intrattiene e anche i tiragraffi in versione quadro perché sempre più questi animali vivono nel contesto familiare e quindi abbiamo pensato alla casa e anche a loro. Grazie per la visione!